Fate da uno, a cercare il lungolinea su Mergareco, Porro apre per Patry sulla parte bassa del muro. Grande protagonista insieme a Patry di gara 2, il capitano del Giappone porta su Zaitsev, decetto subito di secondo tempo, Lube Cimitanova e punto del capitano Sineniez in jump flop tipica su Mergareco Sineniez. La fine di sicurezza di Mergareco, si va da Patry, diagonale micidiale di Jean Patry, in salto da 5, il francese cerca Balaso, De Cecco può aprire per Sineniez, tocca muro Milano con Piano, palla che torna nel campo Lube, allora si va da Zaitsev tenuto da Mergareco, Ishikawa palleggia per Patry, il muro di Nikolov si salva a Milano e Mergareco firma il set ball per l'Allianz. Patry su Nikolov, ace di Jean Patry, Milano chiude il set e si porta sull'1-0. Meglio del 14 del primo set, De Cecco a forzare su Pesaresi, Porro attacca con Ishikawa da 2, assegno Yuki Ishikawa. Giovinina Lube con Sineniez, Zaitsev e Bottolo, Jant su Ishikawa, Porro palla in mano, attacca Loser, tiene Sineniez, vola Balaso, attacca Zaitsev. 17-13 Allianz, assegno nel match, scusate, Cereniez, riceve Ishikawa, palla a filo, Porro attacca con Mergareco, chiama palla in 4 Mattia Bottolo, si va invece Danzani, doppiato a muro da Porro che poi attacca in pipe con Ishikawa, più 6 Milano. Bottolo in salto da 6, c'è Pesaresi, perfetta la ricezione, Porro apre per Patry, che va a segno, anticipando il tentativo di chiusura al centro per il servizio di Avito Diamantini, Gianflot verso Ishikawa, Porro attacca con Mergareco, che ha tutta la rete e la parallela, il centrale argentino, Gianflot su Marloian, De Cecco per Gabi, a segno, Gabi, 18 pari, Gianflot in diagonale, Nicolò, c'è invece Jan, palla in mano per De Cecco, attacca Alex Nicolò e va a segno, più 1, vedo. Verso zona 5 Diamantini su Pesaresi, Porro, palla in mano, pipe di Ishikawa, la palla, salto dell'argentino su Marloian, De Cecco attacca dietro con Gabi, muro di Mergareco, Milano e Spugna, l'Eurosuole Forum, muro di Mergareco su Gabi Garzia Fernandez. Grazie.